Prestazione convincente dell'Hockey Forte dei Valmi che supera fra le mure amiche con il punteggio di 10-3 lo Scandiano e approfittando dello scivolone a Monza per 4-2 dell'Odi, balsa meritatamente al primo posto in classifica. Con un Casas sugli scudi, autore di un poker, il giocatore ha rinnovato proprio in questi giorni, Ambrosio realizza una tripletta, il giovane Giovannetti una doppietta e l'altra erete. È di Burgaia, per gli ospiti Hernandez aveva firmato il gol del momentaneo pareggio 1-1 sul vantaggio di Casas, poi una doppietta di Franchi, ma troppo forte la formazione di Alberto Orlandi che dopo la qualificazione in Coppa Italia ha continuato l'ottimo momento che sta attraversando proprio in questa fase della stagione. si era messa nel mirino la squadra versiliese di sorpassare i Lodi e a sorpresa c'è stato questo scivolone sulla pista di Monza che è relegata nei paesi bassi della classifica e quindi questo scivolone ha permesso alla forte meritatamente di balzare in testa della classifica e ora guarda al futuro con un pizzico ovviamente in più di ottimismo.